Salve ragazzi e benvenuti a PlayStation Update, la rubrica di EveryEye.it che ogni settimana vi informa sulle nuove uscite del PlayStation Store e vi dà i nostri personalissimi consigli per i vostri acquisti digitali. Le due piattaforme Sony, PlayStation 4 e PlayStation 3, accolgono oggi Bound by Flame, un gioco di ruolo di stampo occidentale sviluppato da Spider's Studio. La versione digitale è già acquistabile al prezzo di 54,99€ su PlayStation 4 e di 44,99€ su PS3. Nel titolo vestiremo i panni di Vulcan, uno sfortunato protagonista che nelle fasi iniziali dell'avventura viene posseduto da un demone di fuoco. Questo indesiderato e malvagio ospite lo consumerà dall'interno e spetterà soltanto a noi decidere se utilizzare i devastanti poteri messi a disposizione dalla creatura oppure se sforzarsi di mantenere un briciolo di umanità. Purtroppo il titolo si è rivelato mal bilanciato, frustrante e poco profondo sul fronte del sistema di crescita del personaggio. Non si tratta insomma di una produzione davvero riuscita. Die Gute Fabric pubblica Sports Friends su PlayStation 4 e PlayStation 3. Si tratta di una piccola raccolta di quattro produzioni indipendenti fieramente dedicata al multiplayer locale e venduta al prezzo di 13,99€. Il prodotto è assolutamente consigliato a tutti gli amanti del cosiddetto multiplayer da divano. Questa collection è infatti molto ben sviluppata, efficace e soprattutto varia. A patto di avere il numero opportuno di controller si tratta di un'esperienza assolutamente consigliata. Settimana interessante anche per PlayStation Vita che accoglie la God of War Collection. Per scaricare il gioco saranno richiesti 29,99€ che vi permetteranno di avere accesso ai primi due capitoli dell'eccezionale saga di action game creata da Santa Monica su PlayStation 2. Comprando il titolo dallo store inoltre potremo scaricarlo anche su PlayStation 3, sfruttando la caratteristica del cross-buy. Il nuovo aggiornamento non ha introdotto soltanto giochi ma anche una serie di contenuti aggiuntivi particolarmente interessanti. Fra gli altri citiamo il rilascio del DLC Territori riscattati per The Last of Us che include ben quattro nuove mappe per la modalità multiplayer. A tutti gli amanti dell'horror segnaliamo invece la disponibilità di Whistleblower, la nuova terrificante espansione dedicata all'eccezionale Outlast che giungerà una campagna antecedente alle vicende originali al costo di 8,99€. Per quanto riguarda le demo invece gli utenti troveranno ad attenderli nello store la versione dimostrativa di Legolo Hobbit. Chiudiamo come sempre la nostra rubrica parlandovi delle offerte settimanali. La versione PlayStation 3 di NBA 2K 2014 si trova attualmente in sconto sullo store al prezzo di 19,99€ rispetto agli originari 59,90€. Ottime notizie anche per l'on survivor The Director's Cut che nella sua versione PlayStation Vita beneficia di una consistente riduzione di prezzo ed è acquistabile a soli 4,99€. Consigliatissimo a tutti gli avanti dell'horror il survivor bidimensionale abbraccia e riscopre le regole classiche del genere puntando tutte le sue carte sull'insicurezza, sull'orrore e sulla paura di ciò che ci circonda. Per concludere vi segnaliamo anche una promozione relativa a SteamWorlding su PlayStation 4 e PlayStation Vita acquistabile adesso alla modica cifra di 4,99€. Con questo è tutto per questa settimana, con PlayStation Update ci vediamo come sempre venerdì prossimo. Grazie. Grazie.